Quelle belle, capito, cominciano così, con degli sbudellamenti qui un po' di cavi in giro, capito, abbiamo anche ringhio da fare, secondo me, non lo so, ci sarà da divertirsi, io non lo so, già da stamattina ho tirato fuori, non so se riuscito a vedere di dietro il disastro, quello era il vecchio impianto elettrico, qui stiamo tirando le tracce, siamo arrivati qui sotto, che non c'è più la vecchia batteria servizio, buongiorno.